A spingere l'esportazione nel sud contribuisce in misura determinante l'alimentare che cresce del 12,9% in Calabria e questo emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio estero dell'Istat nei primi nove mesi del 2016. L'agroalimentare, afferma il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro, svolge un effetto traino unico sull'intera economia per l'impatto positivo di immagine sui mercati esteri dove il cibo made in Italy è sinonimo di qualità. In uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni, la Calabria agricola ha reagito investendo sul vero made in Calabria puntando su distintività e biodiversità in simbiosi con la storia enogastronomica del cibo calabrese di qualità. Questo è il modello di sviluppo vincente per la Calabria che ha avuto una promozione efficace da Expo Milano dove abbiamo proposto l'intensità e il fascino della Calabria antica, autentica, accogliente.